Benvenuti, sono Marco Catania e in questo video parleremo di sportello psicologico a scuola. Nello specifico andiamo a vedere un po' quali sono gli stereotipi rispetto allo sportello d'ascolto e quali sono invece i benefici che il genitore può trarre rivolgendosi a questo servizio. Partiamo intanto da un presupposto, perché questo video, perché adesso? Beh, proprio a novembre 2020 il MIUR, insieme al CNOP, Consiglio Nazionale dell'Ordine Psicologi, ha stipulato un protocollo d'intesa, protocollo che permetterà nel brevissimo termine di attivare in tutte le scuole del territorio nazionale degli sportelli d'ascolto psicologici. Quindi quale miglior momento per usufruire di un servizio che ha tantissimi vantaggi per il genitore e per i figli, chiaramente, per gli studenti. Prima di tutto però mi preme andare a spezzare uno stereotipo che lo sportello d'ascolto, ahimè, si porta dietro da tanto tempo. Lo sportello d'ascolto non è un ambito di psicoterapia, non è lo stereotipo classico e lo psicologo a cui mi rivolgo perché ho un disturbo d'ansia o un disturbo ossessivo o altre difficoltà. Quello è un contesto appunto psicoterapeutico e anche se lo psicologo che gestisce lo sportello può avere una formazione di psicoterapia, nell'ambito scolastico il tipo di lavoro che si va a fare è leggermente diverso. Infatti nella psicologia scolastica il focus è quello dell'alunno, visto come bambino, ragazzo, adolescente, che interagisce in un contesto che è quello della scuola e in un altro contesto che è quello della casa, della famiglia, delle mura domestiche. Quindi quali sono i benefici, cosa si può fare all'interno di uno sportello d'ascolto e soprattutto quali sono i benefici che può trarre un genitore. Prima di tutto tu genitore puoi rivolgerti allo sportello d'ascolto per fare delle segnalazioni. Che tipo di segnalazioni? Beh, mio figlio vedo che non vuole andare a scuola, che ha un rigetto oppure ha frequenti mal di testa, febbre, ciattole che arrivano prima di andare a scuola, tutti i campanelli allarme che possono segnalarmi, per esempio, la possibilità di fenomeni di bullismo oppure un mancato adattamento all'interno del contesto di classe o un rapporto conflittuale con un docente o con qualche altro compagno di classe. Quindi far notare al collega, allo psicologo scolastico che ci sono dei campanelli d'allarme permette allo psicologo, chiaramente nel rispetto del segreto professionale, di potersi confrontare con i docenti o con la dirigenza della scuola o di fare osservazioni in classe per vedere se effettivamente questi campanelli sono le segnali d'allarme o sono dovuti a qualcos'altro ed eventualmente indagare insieme al genitore a cosa sono dovuti. Secondariamente si possono fare delle segnalazioni relative alla didattica, sa mio figlio ha delle difficoltà particolari in questa materia oppure gli insegnanti mi hanno fatto notare più volte che mio figlio ha delle difficoltà nella lettura o nell'apprendimento in generale, potrebbe essere un disturbo? Questo potrebbe essere chiaramente un primo passo per avviare poi degli screening all'interno della classe, quindi valutare eventuali casi a rischio di disturbo specifico dell'apprendimento. O ancora, mio figlio ha una disabilità, penso che la didattica inclusiva stia funzionando ma potrebbe avere un beneficio in più, una spinta in più specifica rispetto al funzionamento del mio figlio. Benissimo, quale è il migliore strumento per confrontarsi con un professionista che potrà fare da mediatore tra la famiglia e gli insegnanti per sottolineare quali sono le esigenze specifiche di quel bambino con quella difficoltà all'interno di quella specifica classe, all'interno di quello specifico contesto? O ancora, in questa rubrica, nei prossimi venerdì quindi, approfondiremo anche delle tematiche relative al contesto domestico, l'ansia relativa a questo periodo Covid o difficoltà di interazione tra il proprio figlio e gli altri bambini. Benissimo, quale possibilità migliore per confrontarsi con un professionista anche dal vivo per poter dire, sa guardi vedo che mio figlio in questo periodo sta avendo questa difficoltà e quindi avere un supporto specifico, professionale su una tematica che in questo momento è sicuramente parte integrante delle nostre giornate in maniera preponderante. Inoltre è possibile proporre delle progettualizzazioni, all'interno del contesto scolastico, sono un genitore, ho delle specifiche competenze in un ambito benissimo, quale miglior momento storico per promuovere quelle competenze e quindi proporre, all'esempio all'interno dello sportello ascolto, l'avvio di possibili progetti. Anche lì il collega in questione farà da mediatore tra il contesto casalingo, familiare e il contesto scolastico. Quindi questa è a tutti gli effetti una risorsa da sfruttare per tutti i genitori. Inoltre in questo periodo la presenza scolastica ahimè non è garantita, ci sono alcuni gradi di scuola che vanno in dad, altri che continuano ad andare in presenza. Allora cosa accadrà se la classe di mio figlio va in dad? Nessun problema perché nei bandi che la maggior parte di scuola hanno già avviato, alcuni hanno già conclusi, quindi gli sportelli partiranno a brevissimo, è previsto che qualora la didattica passasse in dad o qualora non si potesse permettere l'entrata del genitore all'interno delle mura della scuola, lo sportello ascolto potrà essere gestito anche online e quindi è una risorsa da sfruttare, hanno fatto sia il NUR che il KNOP un ottimo lavoro, dando delle basi che permetteranno a chiunque di usufruire di questo servizio che prima era presente ahimè solo in poche scuole e che ora sarà diffuso in tutto il territorio nazionale, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Detto questo quindi io ti saluto e se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un like e di condividerlo magari ad altri genitori potrà tornare utile e soprattutto attiva la campanellina così ogni venerdì ti arriverà una notifica che ti ricorderà che è uscito un nuovo video di SOS Genitori qui sul canale di Tecnica della Scuola. Ciao e a presto! Grazie!